Buongiorno e benvenuti alla nostra Trading Online Expo. Ancora una volta sarà, speriamo, un grande successo. Tre giorni di formazione con la presenza di speaker internazionali di alto livello, di broker online, di emittenti, di tanti trader professionisti e non professionisti e credo che anche quest'anno sarà un'edizione di successo ancorché virtuale. Siamo ormai abituati a svolgere le nostre attività in modo virtuale a causa purtroppo del Covid e noi non abbiamo fatto eccezione e abbiamo deciso e siamo stati anche obbligati quest'anno a creare un'edizione digitale. Sono certo che sarà di vostra soddisfazione anche quest'anno. Siamo arrivati alla diciannovesima edizione, la prima edizione è stata nel 2002. È una manifestazione che ha sempre avuto un grandissimo successo e ha sempre riscosso un grande interesse con tantissimi partecipanti. Quest'anno probabilmente ne avremo anche forse molti di più di quelli che abbiamo di solito perché abbiamo meno limiti relativamente agli spazi fisici. Però al di là del numero, quello che per noi è fondamentale è che questi tre giorni che sono in parte di formazione, in parte è anche un modo per distrarsi, svagarsi e imparare soprattutto tante cose nuove e conoscere magari anche se virtualmente in questo caso altre persone, sono sicuramente un'opportunità da non perdere. Pensiamo che i temi in discussione siano i temi che sono di grande interesse in questo momento. Ci saranno approfondimenti come sempre su aspetti macroeconomici, sull'impatto ovviamente del Covid, sui mercati, sulle nuove tendenze in genere relativamente agli investimenti e poi uno spazio sarà dedicato anche alla sostenibilità e alla finanza sostenibile che sono due aspetti che ci sono molto cari e sui quali noi come Borsa abbiamo investito molto e siamo stati tra l'altro i primi in Europa a creare una giornata e una sessione dedicata agli incontri tra investitori e società quotate sui temi proprio della sostenibilità, così come in fondo eravamo stati i primi in Europa a creare la Trading Online Expo e poi molte altre borse ci hanno copiato. Quindi continuiamo con lo spirito che ci ha sempre caratterizzato in questi anni, è legato all'innovazione, è legato all'attenzione alle nuove tendenze sui mercati e speriamo di trovare, di aver trovato le giuste motivazioni anche per voi e credo che con questo vi auguro tre giorni intensi, divertenti, interessanti e spero che l'anno prossimo per festeggiare il ventennale riusciremo a farlo di persona e faremo anche un bel brindisi tutti insieme. Grazie a tutti.